buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato a un nuovo modello linkedin ads canvas quindi in questo webinar vi presenterò per la prima volta in anteprima il modello uso l'articolo determinativo che dovreste utilizzare come strumento di metodologia per progettare la vostra campagna di successo benvenuti a questo webinar dal titolo progetta la tua campagna con linkedin ads canvas io sono per chi non mi conosce leonardo bellini ho un sito dedicato al mondo linkedin si chiama linkedin for business.it vi invito a iscrivervi alla newsletter riceverete una serie di informazioni contenuti risorse di varia natura di farci l'applicazione per ottimizzare i vostri processi aziendali orientati appunto alla generazione di risultati grazie a linkedin sia che siate marketing manager e char manager o sales manager o anche un sito dedicato al progetto di social selling si chiama social selling academy la novità proprio di questi giorni è l'uscita in libreria è accaduto ieri accadde ieri il 17 ottobre del mio ultimo libro la pubblicità su linkedin che trovate già da ieri su amazon naturalmente chi acquista il libro su amazon e magari scrive anche una recensione non solo avrà la mia gratitudine eterna e sarà citata nelle mie preghiere serali ma potrà avere accesso se pubblica poi la foto su linkedin a una serie di altre risorse che ho già destinato a questo come dire genere di azioni come dire spontanee di generosità che potreste fare verso di me qual è la mia missione la mia missione è quella di aiutare imprese e professionisti e raggiungere i loro propri obiettivi di business grazie all'utilizzo dei social media in particolare linkedin come social network professionale oggi di che cosa parliamo parliamo di campagna dv ho già tenuto un paio di settimane fa un webinar in cui ho chiesto a voi di fare una sorta di analisi di test per valutare la reale fattibilità o convenienza nell'impostare e progettare una campagna di linkedin ovvero rispetto al vostro business al vostro modello di business al vostro mercato al valore al costo il prezzo dei vostri prodotti possiamo determinare a priori un potenziale di successo legato alla vostra campagna ma non basta aver superato questi requisiti se non abbiamo a disposizione un metodo una metodologia allora prima di entrare proprio nel merito della metodologia e quindi poi nel presentarvi il canvas proviamo a fare questo piccolo esercizio e ti riconosci riconosci una di queste affermazioni per esempio i social arts richiedono tempo non è così scontato immediato automatico creare una campagna di social advertising a prescindere dal tipo di social network che si usa un altro luogo comuno comunque osservazione obiezione che ci frena dall'investire sui social arts è ma forse il mio settore non lo trovo proprio su questo social network oppure non hanno gli strumenti per raggiungerlo non le chiavi per acquisire la loro attenzione per conquistare la loro fiducia per trasformare questa attività di advertising in qualcosa di profittevole dirò i quindi come misura l'efficacia di questo tipo di campagne come posso giustificare questi investimenti rispetto appunto a le domande impellenti che poi mi farà il mio capo il titolare o il mio responsabile vediamo di affrontare tutti questi aspetti quindi la mia promessa la mia come dire patto formativo che vi che condivido con voi oggi è quello che vi aiuterò a cambiare il modo con cui voi progettate le vostre campagne su linkedin e non solo abbiamo detto anche magari estendendo da altre social network e acquisirete un metodo usabile appunto anche su altre social network per progettare oggi parliamo esplicitamente di linkedin ma vedrete che la metodologia che vi spiegherò potrà essere applicata anche per altri social network quindi tutta questa premessa per come dire cercare farvi venire un pochino la comina in bocca e qui ci vorrebbe un rullo di tambure non so se stefania la musica giusta per presentarvi ma prima di presentarvi il nuovo canvas vi spiego un po la genesi quindi questa è una mappa mentale che io ho fatto un po di tempo fa dove vedete tutti gli step e tutte le scelte le biforcazioni che una persona come dire deve affrontare e deve in qualche modo seguire per creare una campagna su linkedin il mio è un tentativo di semplificazione di supporto di aiuto da questo punto di vista ho identificato alcuni elementi chiave gli obiettivi l'audience il formato pubblicitario l'offerta il budget il bidding e risultati attesi il processo che ho poi fatto è quello di metterli di stendere su un lenzuolone che chiamiamo canvas che è composto da nove blocchi e sono questi che vedete proviamo a vederli uno a uno quindi il primo blocco definisci gli obiettivi il secondo identifica la tua audience e il terzo scegli il formato il quarto è crea il messaggio il quinto è crea un'offerta basata sui contenuti poi abbiamo traccia le conversioni scegli la tariffazione definisci budget e durata infine il nonno blocco misura ricavi e prestazioni allora lasciate le cinture perché ora decolliamo con questo canvas il primo punto sono ovviamente gli obiettivi della campagna cosa desiderate raggiungere notorietà ingaggio creare considerazione o generare nuovi contatti nuovi clienti o perché no nuovi possibili candidati da assumere quindi i tuoi obiettivi non basta aver deciso genericamente dove vogliamo arrivare ma dobbiamo trasformarli in obiettivi smart e qui vediamo alcuni esempi c'è stato un problema tecnico mi scuso comunque poi dopo rivedremo il tutto quindi torno un attimo indietro per recuperare alcune slide abbiamo detto vi presento il canvas vedete questi sono gli elementi chiave del canvas sono 9 blocchi definisce gli obiettivi quindi questi sono gli obiettivi perfetto ci siamo quindi qua i 9 blocchi definisci i tuoi obiettivi eccetera vediamo i blocchi uno a uno quindi il primo è quello di identificare gli obiettivi della campagna e linkedin ci permette identificare anche ci dà alcune opzioni per esempio notorietà considerazione quindi vogliamo portare traffico sul sito vogliamo creare engagement vogliamo aumentare il livello di visualizzazione di un video che abbiamo deciso di sponsorizzare oppure vogliamo generare i qualificati o a fare avvenire delle azioni di conversione sulle nostre landing page del nostro sito oppure ottenere delle nuove candidature quindi è importante non limitarsi alla generica identificazione degli obiettivi ma da un punto di vista strategico aggiungere degli elementi qualificativi del vostro obiettivo per land di smart vediamo alcuni esempi vorrei avere almeno ottenere almeno 10 lead da questa campagna che dura un mese piuttosto che generare almeno mille di usa per il mio video o ricevere almeno 20 commenti o like per un post quindi è importante adottare l'approccio smart smart è un acronimo dove se sta per specifico quindi definisce degli obiettivi specifici misurabile raggiungibili realistici e comunque connotati temporalmente con un inizio e una fine non possiamo dire genericamente voglio incrementare l'awareness del mio brand il secondo punto molto importante è definisci il tuo pubblico di riferimento la tua target audience su questo ci potremmo dilungare a lungo qua io mi limito a segnalarti quelle che sono criteri principali più utilizzati per identificare il singolo e professionista e o anche l'azienda quindi quando parliamo di professionista parliamo di una persona che ha un suo ruolo a ricopre una funzione aziendale magari nel marketing ha un suo livello di seniority che attenzione non vuol dire il numero di anni in azienda ma vuol dire anche la responsabilità cioè se un cifo marketing officer piuttosto che un manager un partner poi altri elementi legati agli interessi professionali alle competenze quindi possiamo targetizzare per competenze per adesione ai gruppi per formazione quindi in base all'università gli studi compiuti per genere e anche per interessi a questi possiamo aggiungere dei criteri legati all'azienda al settore al nome dell'azienda la dimensione ovviamente l'area geografica che è un criterio obbligatorio se puntiamo decisamente o esclusivamente alle aziende quindi stiamo sviluppando una strategia di account base marketing potremmo creare un elenco dei nostri account target delle nostre aziende potenziali clienti e magari profilarle in base alla dimensione e anche al settore alla industria questi sono i criteri classici utilizzati appunto per le aziende vediamoli meglio quindi io potrei utilizzare creare una campagna targetizzando solo le persone che occupano un determinato ruolo quindi farei una targetizzazione userei per job title oppure potrei usare altre combinazioni per esempio funzione aziendale seniority oppure skill e seniority oppure group e seniority queste sono alcune combinazioni tra quelle preferite ottimali non utilizzate più di quattro cinque criteri targetizzazioni rischiereste di avere delle audience troppo di nicchia e probabilmente per lascereste come dire a casa qualcuno che invece vorreste vorreste raggiungere è possibile anche targetizzare persone che già ci conoscono che hanno visitato il nostro sito che fanno parte di una lista di prospecto di clienti che ci hanno dato la loro email perché si sono iscritte alla nostra newsletter e quindi parliamo di altre strategie di audience che sono quelle che sull'interno si chiamano le match audience quando parliamo di elenco di aziende parliamo di elenco di account quando parliamo di singoli di scritte la rosetta per esempio parliamo di content audience se invece vogliamo ritargettizzare le persone che hanno visitato il nostro sito magari specifiche sezioni del nostro sito parliamo di website audience da alcuni mesi linkedin anche introdotto la possibilità di creare audience simili come esiste ormai da molto tempo su facebook quindi le lucca like audience potremmo identificare tutti i visitatori del nostro sito interessate una specifica sezione o prodotto e chiedere a linkedin di estendere la audience a persone con lo stesso tipo di interessi professionali lo stesso tipo di competenze di ruolo o di funzione aziendale la potenza di fuoco pazzesca che offre linkedin è la capacità di creare una targetizzazione assolutamente chirurgica laser focused possiamo targetizzare ne ho detto in base alle caratteristiche del professionista in base alle aziende base alla formazione al genere alla laurea al campi di studio possiamo anche lavorare con la combinazione e le esclusioni per esempio potremmo escludere dai nostro target i nostri concorrenti potremmo escludere magari i già i nostri clienti se vogliamo fare un'attività di newbies il mio consiglio è quello di utilizzare queste combinazioni job title abbiamo detto funzione seniority skill e seniority gruppe e seniority per le aziende il nome dell'azienda della dimensione e la industria in questa tabellina vedete un pochino le caratteristiche di queste scelte se io vado a targetizzare solo con un singolo ruolo rischio di avere un volume basso avrò una curatezza molto alta rischio di avere una campagna anche molto costosa e via via per le altre le altre combinazioni ci farà poi i miei corsi a pagamento entreremo in dettaglio e faremo proprio degli esempi su questo quindi abbiamo parlato il primo blocco di obiettivi secondo blocco di audience il terzo blocco è relativo alla scelta del formato pubblicitario quindi abbiamo in mente chi vogliamo raggiungere quindi avremo in mente una dimensione della nostra audience per un certo tipo di obiettivi ma ancora non abbiamo capito con quale messaggio con quale proposta quindi quali sono i formati pubblicitari possibili gli annunci testuali i contenuti sponsorizzati gli annunci dinamici e le sponsor email queste sono le quattro macro categorie di formati e alcune di esse vedete hanno delle varianti per esempio posso creare un annuncio basato su una singola immagine oppure su più immagini fino a 10 immagini creando un carosello di immagini oppure posso sponsorizzare un video e quindi creare un video ad gli annunci dinamici ci permettono di raggiungere degli obiettivi ancora più specifici per esempio se desideriamo far crescere la nostra follower base della pagina aziendale o se vogliamo raggiungere candidati passibili o se vogliamo sponsorizzare attraverso uno spotlight ad un'offerta speciale magari per un pubblico di nicchia infine le sponsor del mail sono il formato quello più simile alle demma che hanno delle caratteristiche ancora una volta assolutamente specifiche vediamo una facciamo una carrellata veloce di questi formati così riprendiamo un attimo confidenza gli annunci testuali appaiono solo sul desktop alla destra e sono composti da un'immagine piccola 50 x 50 la caratteristica è che avranno tipicamente un basso volume pochi click un click to rate già di 0,03 per cento considerato buono e quindi ci permettono di fare anche un'attività di awareness e comunque di attirare magari di pochi click ma assolutamente qualificati i contenuti sponsorizzati appaiono invece su tutte le piattaforme nel newsfeed quindi desktop mobile tablet sono quelle che hanno l'impatto visivo più bello di tutti perché abbiamo un'immagine bella grande 1200 x 627 pixel il click to rate da 0,04 in su è considerato buono alcuni elementi di testo introduttivo titolo e considerate che questo tipo di annunci viene visto soprattutto dagli utenti mobile quindi l'ottanta per cento delle persone che vedranno il vostro contenuto sponsorizzato saranno degli utenti mobile probabilmente questo è il formato più flessibile più malleabile più utilizzato anche per raggiungere obiettivi differenti sia di wellness che di engagement ma anche di lead generation in questo caso l'obiettivo se quello della regeneration è quello di invitare incentivare le persone a lasciarci loro dati in cambio di un contenuto premium assolutamente di valore poi abbiamo video ad appaiono nei newsfeed hanno dimensioni rettangolari e quadrate hanno un costo per view variabile tra 0.060 14 non ci consentono ovviamente di fare retardo perché non stiamo portando traffico sul nostro sito considerate qualche video senza audio quindi dovremmo pensare di aggiungere i sottotitoli gli annunci dinamici appaiono nella spalla destra hanno una dimensione immagine molto piccola e abbiamo detto ci sono di vari tipi follower ads job ads i costi per click sono abbastanza elevati quindi non è probabilmente la scelta consigliata a meno che non si abbiano proprio specifiche obiettivi da raggiungere per esempio ricerca di candidati la gli annunci basati sul carriusello d'immagine sono una variante dell'annuncio a singola immagine del sponsor content hanno caratteristiche pressoché simili ci permettono di creare delle land in peggio differente quindi di creare un'esperienza più coinvolgente di raccontare una storia di fare storytelling attraverso una serie di immagine che magari descrivono un percorso un processo o comunque anche un prodotto sono integrabili con il form per di generation per acquisire i dati direttamente senza portare gli utenti sulla nostra landing page infine abbiamo gli e sponsor ed email o i message ads sono un annuncio che appare sia su mobile che tablet e desktop 45 giorni di frequency capping quindi una persona che ha ricevuto una sponsorizzata non potrà ricevere subito un'altra email sponsorizzata quindi un inserzionista dovrà aspettare almeno 45 giorni per raggiungere lo stesso target questo ha come dire a beneficio di della qualità dell'experience dell'utente linkedin che altrimenti rischerebbe di essere sommerso da email sponsorizzati si paga per l'invio dell'email con un costo variabile tra 0,75 e 0,85 euro è possibile personalizzare il immittente i tassi di apertura di un email sono variabili tra il 45 e il 50 e il 55 per cento io ho avuto campagne che hanno superato il 60 per cento come open rate considerate che secondo le ultime statistiche una dem profilata in italia raggiunge al massimo un open rate del 15 per cento quindi quasi tre volte anche più di tre volte tanto e invece l'efficacia dell'invio di una email arriviamo al quarto punto crea il tuo messaggio quindi abbiamo definito il formato dovremmo ora crearlo quindi aver definito il nostro copy il nostro titolo l'annuncio la parte di legata agli elementi visuali immagini il video la serie di immagini se vogliamo creare una galleria di immagini un carosello vedete per esempio lo sponsor content abbiamo bisogno di introduzione meno di 150 caratteri la mia raccomandazione un'uso di destinazione ovviamente un'immagine un titolo e una descrizione che non è sempre visibile soprattutto dagli utenti mobile altro esempio vedete di sponsor content in questo caso appare il dominio questa invece una mail sponsorizzata quindi abbiamo una sorta di claim di tagline iniziale vediamo la persona limitente questo caso vedete michael afanasef è possibile personalizzare l'email quindi la cosiddetta salutation personalizzata poi è possibile aggiungere un testo fino a 600 caratteri il best practice ci dicono non superare 300 350 carattere infine la firma del mittente è una call to action quindi in questo caso c'è un bottone all'inizio visita il sito web dell'azienda e poi possiamo ripetere con un link testuale la call to action anche alla fine vediamo il quinto punto come si creano le offerte di contenuto perché è importante crearle perché importante tener conto dello stadio del fame la cui appartiene in quel momento il nostro il nostro interlocutore è possibile creare contenuti differenti white paper un invito da registrazione a un webinar un invito a scaricarsi una guys by do una success story oppure anche a iscriversi a un trial gratuito del nostro prodotto software ora una a una demo una demo online quindi possiamo classificare i nostri contenuti gratuiti secondo questa scala dove avremo in alto i contenuti a basso livello di sezione per esempio un annuncio che ci spinge a leggere un blog post o a vedere un'infografica oppure un annuncio che porta a registrarsi per scaricare un web paper un ebook per iscriversi a webinar man mano che scendiamo lungo questo funnel aumenterà il livello di sezione ovvero sarà più difficile superare quelle remore psicologiche quelle obiezioni mentali che hanno il nostro interlocutore che gli frenano dal darci subito il loro la loro email a dirci in quale azienda lavorano addirittura il numero di telefono dell'azienda quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra un'offerta assolutamente attrattiva il cui valore percepito superi l'obiezione o comunque lo scoglio mentale di dover dare dei dati in cambio ok quindi dovremmo lavorare nella parte centrale di questo funnel perché se consideriamo l'offerta legata a legion blog post non rischiamo sì di avere molti click e quindi di pagarli anche profondatamente ma poi di non acquisire nessun lead perché poi non sappiamo chi sono questi anonimi che hanno visitato il nostro blog post si potranno contribuire alla website audience e quindi potremmo fare un'azione successiva delle targeting però non stiamo acquisendo nessun lead quindi non stiamo sostanzialmente generando uno dei classici obiettivi della campagna di marketing v2b cioè l'acquisizione di qualificati se andiamo con una content offer tipo iscriviti al trade prodotto o contattaci per avere il nostro commerciale alla calcagna sarà molto difficile che le persone che compilano il forma e quindi riuscirai tipicamente ad avere una bassissimo tasso di free free rate bar con bassissimo tasso di conversione quindi considera che le offerte che sono in top del funnel avranno un altro click through rate ma probabilmente basso zero conversion rate le offerte invece ad alta attrezione avranno un basso click through rate ma anche probabilmente un basso conversion rate quindi ancora una volta bisogna cercare di sviluppare dei contenuti basati sulle interviste sull'analisi le visioni e comportamenti dei nostri clienti quindi chiedi ai tuoi venditori di capire quali sono i pain points gli hot problems le sfide le criticità più impellenti che stanno incontrando i tuoi clienti a cosa sono maggiormente interessati e su questi sviluppo i tuoi contenuti la tua offerta il tuo webinar il tuo ebook la tua checklist la tua guida all'acquisto ecco questo è uno degli aspetti più importanti in altri contesti o parlo diffusamente di un modello che è il cosiddetto modello amo dove amo sta per audience message e offer quindi è fondamentale allineare la tua audience al messaggio e all'offerta quindi il messaggio attraverso il copio attraverso la creatività deve essere deve spingere l'utente a compiere quell'azione per ottenere quel tipo di offerta basata sui contenuti ma se tu hai sbagliato target o sbagliato messaggio difficilmente riuscirai a convertire e però l'offerta è comunque l'elemento fondamentale per cui l'utente decide se come dire accettare questo mutuo scambio di valore concedendoti di ottenere il suo indirizzo mail le sue informazioni di contatto in cambio di questo contenuto di offerta che in forma prima o esclusiva le stai donando terzo punto è quello di tracciare le conversioni è possibile attivare un meccanismo per misurare l'efficacia delle tue azioni anche in termini di conversione naturalmente non per tutte le campagne ha senso applicare questa opzione ma per quelle campagne che prevedono un'azione misurabile tracciabile sulle pagine del tuo sito per esempio un download di un contenuto un'iscrizione webinar quindi possiamo creare una nuova conversione quindi scegliere la call to action per esempio in questo caso è download monetizzare dare un valore monetario alla conversione stabilire una finestra temporale e poi definire l'url della fine di conversione potrebbe essere la thank you page del vostro processo di download di un contenuto premium quindi vedete un esempio di come creare la conversione possiamo associare a la stessa conversione anche a campagne differenti anche a campagne nel tempo è importante che nella pagina di ringraziamento dove avviene il tracciamento effettivo della conversione sia stato installato il famoso link di nel site tag cioè quel javascript quel codice javascript che ci permette di fare il tracciamento qui vedete un esempio di tracciamenti e infine dobbiamo definire la modalità di tarifazione cioè cosiddetto bidding vedete è possibile scegliere tra differenti modalità di tarifazione cpc sta per costo per click cpm per costo per mille visualizzazione c per view è il 5 per le di use specifiche di un video ad cps il costo per send specifico di una in meno sponsorizzata è possibile anche delegare questa scelta a linkedin scegliendo l'opzione automatico vediamo un attimo come funziona il bidding sicuramente saprete di questo concetto di bidding che vuol dire sostanzialmente puntare un certo una certa fiscia un certo valore a un'asta dinamica virtuale che avviene dinamicamente su tutti i social network che offrono i loro spazi pubblicitari quindi quanto sei disposto a spendere per una specificazione questo significa il bid io sono disposto a spendere 5 euro per un click quindi scegliere all'opzione posto per click oppure sono disposto a spendere 5 euro per mille visualizzazione del mio del mio annuncio il costo effettivamente speso che racconto del secondo inserzionista quindi supponiamo di decidere di essere esposto a spendere 2,5 euro se il secondo bid 2,1 euro cioè secondo inserzionista che vuole raggiungere lo stesso tipo di audience e 2,1 euro tu spenderai effettivamente non 2,5 euro bensì 2,5 2,1 euro cioè lo 0 1 0,01 cioè un centesimo in più del bid quindi abbiamo detto le tipologie di bidding bid automatico significa non puoi fissare tu un limite ma puoi scegliere cosa vuoi ottimizzare per esempio le conversioni click le views puoi scegliere invece il bid massimo cioè quanto al massimo sei disposto a spendere per un click quindi per una campagna cpc oppure per mille visualizzazione oppure per l'invio delle mail o per le visualizzazioni di un video qui c'è tutto un mondo di che troverete leggendo il mio libro di strategie di bidding da cosa conviene partire in base al tipo di campagna il tipo di obiettivi alla dimensione della audience ci sono tutta una serie best practice che oggi non vi racconto ma potete scoprire leggendo i miei libri o seguendomi in altri contesti magari iscrivendovi a un mio corso di formazione o comunque approfondendo questo tema come diciamo come come consulente quindi il bid automatico vi dico solo che non è la scelta migliore almeno inizialmente perché ancora linkedin non ha quello storico di dati che permette di adottare delle algoritmi anche l'intelligenza artificiale che è di internet per massimizzare il vostro investimento quindi conviene non scegliere questa opzione subito ma dare tempo a linkedin di comprendere il comportamento della tua audience quali sono gli annunci che ottengono maggiore prestazione in quale ora del giorno con quale tipo di messaggio con quale call to action con quale immagine arriviamo all'ottavo punto quindi il budget e la durata quindi ogni campagna deve avere un inizio potrebbe essere anche indefinita quindi non avere una fine però potrebbe avere una fine quindi possiamo definire un budget complessivo della campagna un budget giornaliera poi decidere anche un inizio e una fine della campagna quindi conviene considerare l'opportunità di creare una campagna iniziale di test allocando un certo tipo di budget e poi invece dedicare investire la gran parte del budget in campagna successive di ottimizzazione di basate sugli apprendimenti che la vostra campagna il test di test abbia permesso di ottenere l'insight che avrete acquisito quindi nella stessa interfaccia è possibile definire sia il budget che lo scheduling il mio consiglio è definire sia un budget complessivo che un budget di inizio di fine a meno che non abbiate deciso di far andare la campagna indefinitivamente ma questa è un'opzione abbastanza rara e quindi definire una data di inizio e di fine quanto come decidere quanto investire nel tuo budget su una campagna allora si può anche investire relativamente poco soprattutto se avete scelto di fare una campagna utilizzando dei formati pubblicitari a un bassissimo criptoretto come gli annunci testuali e lo scotto che dovrete pagare che magari dovrete aspettare anche più di un mese o sei otto settimane per raggiungere quel livello di informazione utile per poi come dire statisticamente affermare che avete imparato acquisito alcuni insight in merito al comportamento della vostra audience rispetto a quel tipo di messaggio a quel tipo di offerta un budget iniziale potrebbe essere di mille euro potrebbe essere 1500 euro dipende ovviamente dai vostri obiettivi dall'audience a cui vi rivolgete dal livello di competitività della campagna eccetera eccetera ok poi dopo risponderò alla domanda vedo che stanno arrivando una serie di domande infine misura i risultati siamo arrivati all'ultimo blocco naturalmente in base al nostro obiettivo avremo delle aspettative dei risultati delle metriche da considerare in maniera prioritaria se il nostro obiettivo quello di awareness probabilmente le views se il nostro obiettivo è l'engagement e click o le interazioni interesse sociale mostrato se l'obiettivo delle conversioni useremo il costo per lead o il costo per conversion e quindi poi le vendite generate quindi possiamo avere obiettivi differenti in base agli obiettivi e quindi metriche differenti in base agli obiettivi che ci siamo dati è anche importante fare un'analisi della campagna in termini di distribuzione dell'odes che abbiamo raggiunto che quindi ha visualizzato i nostri annunci o che ha interagito con i nostri annunci quindi i click che ha ricevuto la nostra campagna il nostro annuncio da chi li abbiamo ricevuti da persone che occupano l'area di vendite di marketing da persone più senior da persone che lavorano in grande aziende quindi abbiamo a disposizione uno strumento molto potente che si chiama di website demographics che ci permette di analizzare i risultati della distribuzione della nostra audience in termini demografici tenendo conto quindi della criteri targeting di linkedin in cui potremmo conoscere una istituzione in base al ruolo alla funzione alla seniority alla dimensione dell'azienda ecco ho provato in questa con questo webinar a darvi un'anticipazione una una pillola di quello che c'è dietro una strategia per progettare una campagna di successo quindi c'è dietro la consapevolezza che le campagne di advertising non sono per tutti ma sono per molti soprattutto se si lavora nel business to business c'è dietro un concetto di strategia che va oltre la singola campagna ma pensa a magari una serie di campagne una prima campagna per fare awareness e per generare una website audience a cui far seguire poi una seconda campagna dire targeting più profilata più specifica per spingere magari la nostra offerta la nostra soluzione a chi già ci conosce a chi ha già visitato delle specifiche sezioni del sito a chi ha già mostrato interesse magari scrivendo via newsletter a cui potremmo fare rivolgere una campagna specifica per i nostri abbonati oppure la campagna di filializzazione per i nostri clienti quindi è possibile veramente lavorare sull'ordine sul messaggio e sull'offerta per creare veramente delle campagne ad hoc per moltissime esigenze dei nostri marketing o sales manager proviamo a cominciare a rispondere a alcune domande ok allora vediamo un attimo vediamo un attimo allora riccardo come faccio a passare al link di nome sa che visita il mio sito devo aver messo probabilmente e sì certo devi aver installato riccardo un linkedin site tag che ti permetterà quindi di tracciare le visite al sito è possibile rispondere sempre riccardo che chiede si può utilizzare linkedin site per promuovere i posti già pubblicati sì potete sponsorizzare dei post aziendali dei compri e non dei post individuali quindi non personal branding ma corporate branding quindi non è possibile sponsorizzare le poste individuali ok antonio saluto allora sul tema del costo sollevato da pamela che dice linkedin ci dai dati potenziali l'obiezione è che quando faccio il preventivo il costo per l'id è elevato magari due tre cinque euro si considera che il costo medio per click nel mondo varia dai 5 ai 6 fino agli 8 9 euro ma tu devi considerare ovviamente per cosa stai facendo questa campagna quindi ai requisiti per farlo se tu vendi noccioline gelati occhiali da sole a 10 euro probabilmente linkedin non è lo strumento giusto non è il canale migliore per farlo se tu vendi invece un servizio per abbonamento oppure il valore del prodotto servizio per vendi è elevato assolutamente linkedin è la piattaforma migliore per farlo allora jacobo mi chiede si possono inviare il meno il cui il mittente e l'azienda non è singolo se il singolo persona no line mail è una comunicazione personale one to one il mittente non può che essere una persona e non l'azienda ok pamela mi chiede non ho ancora approvato l'elenco di account si può fare da solo è necessario qualcuno che adatte il file no è abbastanza semplice pamela basta seguire le istruzioni c'è un template da completare per creare un elenco di account sostanzialmente dell'inserire il nome dell'azienda e il web e infine vi ricordo i prossimi appuntamenti il 31 ottobre terrò un workshop a milano c'è gratuito il pomeriggio presso l'hotel di ibis esiste ancora qualche posto disponibile ora sefani dovrebbe mettervi il link per ecco grazie sefani è arrivato il link per iscrivervi all'evento di milano quindi un workshop gratuito in cui partendo proprio da questo canvas andremo a toccare con mano alcuni aspetti operativi ma anche strategici proprio legati all'impostazione la progettazione di una campagna di questo tipo vi ringrazio vi do appuntamenti vi auguro un buon weekend come sono un marinaro di auguro buon vento e vi dico che al terzo libro se ne è aggiunto un quarto la pubblicità su linkedin la trovate su amazon l'acquistate mi mandate pubblicate su linkedin una foto con voi che leggete con attenzione il libro e io vi sarò grato e vi farò regalo grazie a tutti e buona proseguizione